Il territorio, lo abbiamo ripetuto più volte in questi mesi, è un movimento politico che vuole dare origine a una stimolazione nel territorio a che ritorni la politica. C'è un marasma generale e quando soffre la sorgente, figuratevi cosa c'è in periferia. Voi tutti sapete quello che sta succedendo in Italia, la grande confusione a Roma, che si riflette ovviamente a livello regionale, specialmente nel sud, e figuratevi a livello provinciale. Quello che a noi fa rabbia è che la nostra provincia partorisce negli ultimi 40 anni personaggi di grande talento nella politica nazionale e però per una sorte, una iella che abbiamo noi non c'è nessun riflesso a livello provinciale, molto poco. Oggi men che meno, per cui alcune persone che hanno delle responsabilità politiche nelle istituzioni, vogliono veramente fare politica, hanno deciso di unirsi insieme in un movimento per cercare di essere da stimolo. Noi non siamo contro nessuno, siamo a favore del risorgimento della nostra terra. Infatti quando io ho ideato questo patto per il territorio e ne ho parlato subito con Riccardo Gallo, dicevo addirittura di mettere tra parentesi né appartenenze né distanze. Noi vogliamo soltanto persone che vogliono lavorare seriamente per il territorio e chi vuole e ha responsabilità nelle istituzioni in provincia fare parte del patto per il territorio può venire perché può solo apportare il contributo della sua mente e delle sue esperienze. Questo cerchiamo, questo proponiamo.